Torna la Coppa della Pace, città di L'Aquila, trofeo Goldbet, che il 27 e il 29 agosto animerà lo stadio Tommaso Fattori, in occasione della perdonanza celestiniana, con un triangolare che porterà in città le primaverie di Juventus, Pescara e Roma. Lo scopo del torneo è affidare ai giovani il messaggio di pace tanto caro a Celestino V, defezione dell'ultimo minuto quella del Torino, che è impegnato nel torneo Mamma Cairo. La Coppa della Pace rientra proprio nell'ambito dei messaggi della perdonanza, di cui ci facciamo carico ovviamente ogni anno, in particolar modo quest'anno è stato inserito questo torneo come uno dei principali avvenimenti della perdonanza numero 722, perché in particolare in questo momento c'è bisogno di un messaggio di solidarietà, un messaggio di pacificazione e lo si può fare ovviamente anche passando attraverso uno sport che è rivolto per lo più a persone che comunque hanno una carica in più, una carica emotiva in più, ma che sa benissimo ciascuno di coloro che ovviamente sarà presente allo stadio, sa benissimo che è tutto organizzato proprio nell'ambito di questo messaggio della pace e della pacificazione. Si parte il 27 agosto alle 19 con Roma Pescara, il 29 alle 19 la finalissima tra la vincente della prima gara è la Juventus che arriverà con un allenatore doc abruzzese e campione del mondo, Fabio Grosso. Obiettivo del torneo far conoscere anche a queste grandi realtà blasonate il territorio aquilano ricco di calcio, giovani interessanti e occasioni per organizzare manifestazioni calcistiche di portata nazionale e internazionale, come probabilmente si tenterà di fare il prossimo anno proprio grazie alla collaborazione della Juventus. Però ci fa grande onore e grande piacere anche il fatto che la Juventus faccia 1600 chilometri soltanto per omaggiare l'Aquila e il nostro torneo e verrà con tutto alla primavera e verrà soprattutto anche con una personalità importante che è Pessotto. Questo torneo l'abbiamo voluto già dall'anno scorso, devo ringraziare il Comitato Perdonanza e il Sindaco perché rientra un po' in quelli che sono gli obiettivi del sociale dell'Aquila. Oggi sappiamo che l'Aquila deve ripartire da giovani e chi meglio dello sport e soprattutto del calcio può innescare e riaggregare i nostri giovani.